Un accordo finalizzato a favorire lo sviluppo economico del territorio accompagnando le imprese private nelle attività di export e promozione del Made in Italy. Lo hanno firmato il 20 ottobre scorso a Roma la Regione Marche e Sace, la società assicurativo finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese di qualsiasi dimensione e settore merceologico. Di questo si è parlato anche a Fano nell'incontro che ieri pomeriggio ha animato Palazzo Corbelli e al quale hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio regionale Mirko Carloni e Marco Mercurio responsabile di Sace per l'area centro-nord e sempre per conto di Sace il manager Milo Bertoni in rappresentanza di Marche d'Umbria. Il dibattito che aveva per oggetto le strategie a supporto dei processi di internalizzazione e transizione ecologica si è concentrato soprattutto sulle prospettive legate all'accordo che si pone l'obiettivo come ha rimarcato lo stesso Carloni di procedere sempre più celermente nel percorso di crescita delle imprese marchigiane le quali avranno ora la possibilità di accedere ai tanti strumenti messi a disposizione dalla società. Il nostro sistema produttivo ha bisogno di rafforzarsi, ha bisogno di entrare in logiche sistemiche e strategiche. Sace così come abbiamo fatto con altri partner istituzionali è un'azienda dello Stato che ha delle grandi competenze che trasferite nel nostro sistema produttivo possono veramente dare risultati e opportunità. Intanto trasferendo anche le competenze Sace si è proprio messa a disposizione delle imprese marchigiane per fare anche un educational, una sorta di formazione alla figura dell'export manager. Le nostre imprese talvolta hanno una dimensione piccola e creare all'interno della propria organizzazione delle figure professionali in grado di essere presenti sui mercati e capaci di vendere sui mercati è qualcosa da veramente talvolta di difficile. Allora io credo che il ruolo della politica in questi casi della politica industriale sia quello di puntare a far crescere queste imprese non solo finanziariamente ma anche culturalmente e dargli tutte le opportunità che ci possono essere anche attraverso società dello Stato come questa. A ribadire il ruolo di Sace è stato lo stesso Mercurio che si è detto soddisfatto di un'intesa che potrà portare le imprese marchigiane a consolidare la loro presenza internazionale beneficiando di nuovi strumenti finanziari e assicurativi rapidi ed innovativi. Sicuramente una richiesta fondamentale è quella di garantire velocemente le esigenze di liquidità. Quindi grazie al nostro strumento, in questo caso Garanzia Italia, siamo molto felici di poter affermare che mediamente le nostre garanzie vengono rilasciate nel giro di uno o due giorni lavorativi. Questo significa che l'azienda ha tempi oltre che certi molto rapidi per poter disporre della liquidità fondamentale. Accompagniamo tutte quante le aziende nei loro processi di internazionalizzazione. Questo significa ogni giorno affiancarli in mercati anche alquanto difficili. Pensiamo al Far East, pensiamo al Sud America con esigenze di tipo assicurativo, con esigenze di tipo finanziario. La nostra finalità quindi è quella di affiancarsi all'azienda, essere un partner strategico silente di lungo periodo affinché quest'ultima possa avere sempre delle risposte veloci in tutte le esigenze in un mercato molto complesso. L'export della regione Marche nel 2020 ha superato gli 11 miliardi di euro. I primi tre mercati europei su cui si è concentrato sono quelli di Germania, Belgio e Francia, mentre quelli extraeuropei hanno interessato gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito e la Russia. Nelle Marche le esportazioni hanno raggiunto buone cifre in percentuale, 23% nella provincia di Pesaro Urbino, 32% in quella di Ancona, 24% in quella di Ascoli, 13% a macerata ed 8% a fermo.